L'opera partecipante è stata realizzata dagli alunni della scuola secondaria di primo grado di Tesco San Vita coordinati dal professor Preto Basergio e dal professor Lidieri Roberto e le consistenze in pratica in un laboratorio di astronomia intitolato e quindi uscimmo a rivedere le stelle, comprendente la costruzione di uno spietroscopio L'uscita didattica della classe per un'osservazione telescopica è una ricerca sull'astronomo poeta San Vita premio del grosso, questa è la motivazione Il lavoro presentato su supporto CD con l'utilizzo del programma Powerpoint ha illustrato le attività del laboratorio di astronomia la costruzione di uno spettroscopio, uscito didattica della classe dei docenti per l'osservazione astronomica con il telescopio e la ricerca di un eventuale astronomo San Vita Tale ricerca ha dato esito positivo e l'astronomo San Vita che i ragazzi hanno presentato è stato il matematico ed astronomo un che poeta Remigio del grosso vissuto nel XIX secolo brillante astronomo ed autore di poesie sul Sole, sulle nebulose, sui pianeti e sulla cometa Donati Il lavoro ha centrato l'ambito della storia dell'astronomia con il merito di aver fatto conoscere un astronomo noto evidentemente solo a livello locale Per tutti questi motivi l'opera è stata giudicata meritevole nel secondo posto Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille